Ciao a tutti! Oggi apriremo questo playdoh kitchen. Allora siamo andati al negozio dei ciocattoli e c'è ancora sito tanto, c'erano piccone, si possono fare tante qualsicini, torte e altre cose. E quindi abbiamo deciso di aprire insieme a voi. Scopriamo insieme? Sì! Va! Allora apriamo! Sì! Queste mi chiedono delle istruzioni. C'è un vasoio. Sicuramente per il microonde, non è un vasoio. Sarà una porta del microonde. Qua ci sono le istruzioni. Le istruzioni. E poi ci sono altre scritte. Altre scritte. E qua ci sono le cose per suggerimenti. Suggerimenti. Poi c'è questo. Un mattarello. Un mattarello, bravo cari. Poi c'è... un paio di pasticcini. C'è questo che è tipo... Vediamo. Delle fornine. Si sono delle fornine. Poi? Le cose per portare i pasticcini. dobbiamo ancora capire cosa sono tutti questi bellissimi accessori questo un altro accessorio un cuore una stella una stella i vasetti i vasetti di plastilina e questo poi c'è il forno a microonde wow vediamo un occhiaio un'altra formina un coltello quante cose un cestino no non è un cestino un'altra forma per fare i dolcetti un piattino una forchettina altre cose mamma mia una cosa un'altra formina con le stelline altre cose mamma mia basta finito ok allora iniziamo ed eccoci qua Carlo super felice abbiamo messo in ordine tutti i nostri accessori e iniziamo a preparare i dolci super squisiti vai Carlo incominciamo da questo incominciamo da questo ok cominciamo va bene mettiamo qua dentro ok apriamo il nostro forno a microonde ti aiuto Carlo mi ha mangiato ok mettiamo nel forno chiudiamo il forno abbiamo messo la nostra torta nel microonde adesso azioniamo e cuciniamo vai Carlo guardate come cresce guardate che meraviglia sta crescendo tantissimo si vai Carlo vediamolo da più vicino apri il forno bravissimo vediamo ma che bello bellissimo anche se si sbassuili siamo la mia patatina guardate che meraviglia allora Carlo quale prossimo dolce vogliamo preparare questo facciamo a due colori come ci hai disegnato sulla confezione che dici scegli i due colori dice arancione arancione perfetto prima arancione da questo lato e l'altro ora mettiamo azzurro apriamo il forno mettiamo dentro i nostri dolcetti chiudiamo partiamo Carlo? si vai aziona guardate wow finito apriamo vediamo voilà vediamo bellissimi belli allora Carlo scegli per favore la prossima formina questo questo che colore mettiamo? bianco bianco ok ok Ok. Apriamo. Hai capito come va messo Carlo? Guarda. Va messo. Va al contrario. Eh sì, bravo. Ha incastro. Bellissimo. Chiudiamo. Chiudiamo. E azione, vai! Grecia. Grecia tantissimo. Grecia. Finito. Apri, vediamo insieme. Voilà. Voilà. Questo doveva essere forse un pochino più basso. Sai? Sì, sì. Hai messo un po' troppa plastilina secondo me. È vero? È vero. Vabbè, però carino lo stesso, dai. Mettiamo con altri dolci, che oggi è una giornata dei dolci. Questo. Muffin, vai! Mettiamo di colore azzurro. Muffin azzurri? Mmm, buono! Muffin, mi attacchiamo un pochino. Muffin. Muffin devono essere più alti, quindi metti un po' di più. Muffin. Vai, Carlo. Vai, Carlo. Vediamo un po' come crescono i nostri muffin. Muffin. Vai! Guardate, guardate come crescono. Wow! Finito. Guardate che muffin che abbiamo fatto, bellissimi. Sì, adesso ce ne sono altre, come una. Ce ne sono altre. Quella per la microonde. Quella per la microonde, sì. Allora, posso scegliere io colore? Sì. Vorrei questo qua. Trasta? Sì. No. No. Napolina? Sì, stancho. Hai! ma chiudiamo e andiamo vediamo come crescono le stelline finito vediamo allora ricapitolando abbiamo fatto tante tantissime cose e si possono fare un'infinità veramente un'infinità di cose vi facciamo vedere altre formine che non abbiamo fatto insieme a voi ed eccoci qua sopra il forno a microonde dietro la maniglia anche qua davanti come vedete ci sono vari formine, cornetti, fiorellini, casette poi abbiamo creato tutte queste bellezze bellissime il forno a microonde ci ha sorpreso tantissimo perché fa un bellissimo effetto sembra che i dolcetti si stanno cuocendo e crescendo davvero e Carlo è rimasto super felice veramente sorpresissimo mi ha piaciuto tantissimissimo adesso Carlo ovviamente continuerà a giocare vi salutiamo e alla prossima un bacio a tutti ciao